Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa prima edizione del nostro notiziario di oggi, un'edizione che apriamo con gli ultimi dati, gli ultimi aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia di coronavirus, con i dati nazionali in primo piano che vedono un indice R-T che è sceso attorno all'1 alle 12, ci sarà una cabina di regia per mettere a punto le prossime mosse a livello nazionale in vista del prossimo decreto Covid, mentre si attendono i dati ufficiali del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. Le anticipazioni ci dicono appunto che l'indice R-T è sceso a 1 nell'ultima settimana, 0,99, un segnale che invita all'ottimismo in una situazione che rimane senza dubbio molto difficile e complessa. I dati nazionali diffusieri dal Ministero della Salute ci riferiscono di 23.696 nuovi casi con 349.477 tamponi fra rapidi e molecolari. Il tasso di positività è salito dal 5,8 al 6,8%. Stazionario invece il numero di decessi 460, un numero decisamente alto. Sono complessivamente 3.620 ricoverati nelle terapie intensive, 32 in più nell'arco delle 24 ore. I ricoverati nei reparti ordinari sono 28.424, appena 14 in meno rispetto a mercoledì, questi dati diffusi ieri dal Ministero della Salute. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, vediamo che l'indice R-T scende ma non basta. Probabilmente il Friuli Venezia Giulia si avvia verso una riconferma della zona rossa anche per la prima settimana di aprile. I dati di ieri, per quanto riguarda le anticipazioni del bollettino del monitoraggio settimanale dell'Isis, riferiscono di un RT pari a 1,23 a fronte dell'1,42 della settimana precedente. I numeri invece dei contagi giornalieri sono ancora molto alti, 842 a fronte di 8.826 tamponi, con un tasso di positività del 9,54%, 13 i decessi. I numeri dei ricoveri negli ospedali sono ancora in aumento, anche se scendono leggermente le terapie intensive, 78, 2 in meno, ma vediamo che i ricoveri negli altri reparti sono pari a 645, quindi 11 in più, 15.245 le persone in isolamento. Questo è il dato del Friuli Venezia Giulia, i dati del Friuli Venezia Giulia, mentre si guarda ovviamente anche ai vaccini, prosegue la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 anche in Friuli Venezia Giulia. A livello nazionale invece è partita la sperimentazione del vaccino Reitera, il cosiddetto vaccino italiano. Tra le realtà coinvolte c'è l'azienda sanitaria locale di Vercelli. Allora andiamo a sentire le parole del direttore dell'ASL, ma anche del medico che ci spiega come funziona questa sperimentazione. Studio Reitera, quando mi è stato proposto dal dottor Borré, direttore del Dipartimento di Medicina e del reparto di malattie infettive, la partecipazione a questa sperimentazione italiana contro la pandemia Covid-19, sono stato subito molto d'accordo e disponibile. Si tratta di uno studio italiano che ha l'obiettivo di rendere disponibile un altro vaccino, un vaccino italiano, per il controllo dell'epidemia. Per cui abbiamo dato subito il nostro assenso come direzione generale, anche perché si tratta di una sperimentazione che coinvolge una ventina di centri italiani, ospedali italiani. La sperimentazione è stata avviata secondo i criteri, le linee guida molto puntualmente applicate di tutte le sperimentazioni internazionali, quindi siamo andati ad arruolare un gruppo di persone, persone che si sono fatte avanti spontaneamente, non abbiamo avuto necessità di chiedere o di richiedere a più persone la disponibilità, ma parecchi familiari di pazienti che hanno avuto il Covid o che sono deceduti per il Covid, si sono fatti avanti proponendosi appunto per la sperimentazione. Sono tre gruppi che vengono, come vi dicevo, arruolati. In un gruppo, il primo giorno, un paziente riceve mezza dose del vaccino. Un secondo gruppo, il primo giorno riceve la dose intera del vaccino. Il terzo gruppo, purtroppo, il primo giorno riceve una fiala di fisiologica. A distanza di 21 giorni, il primo gruppo riceverà altra mezza dose e quindi, nella proposizione di due dosi per ottenere la copertura vaccinale, il soggetto che aveva ricevuto la dose piena in prima giornata riceve una fiala di fisiologica, il terzo gruppo riceve ancora fisiologica. A noi è totalmente sconosciuto la natura di quanto andiamo a somministrare, in quanto lo studio, come prevedono le norme internazionali di registrazione, è in doppio cieco blindato, quindi assolutamente non è possibile sapere che cosa andiamo a somministrare. Il paziente, nei giorni successivi, deve compilare un diario. Il paziente ha a disposizione un numero telefonico di un nostro cellulare totalmente dedicato per affrontare eventuali dubbi o eventuali disturbi o sintomi che possono comparire nei giorni successivi alla vaccinazione. In trentacinquesima giornata ci sarà il prediero per andare a valutare la presenza degli anticorpi e lì sapremo chi ha ricevuto o la dose intera o la mezza dose ripetuta o purtroppo assolutamente niente. In questi giorni si guarda anche alla riapertura della scuola dopo Pasqua, si guarda la data del 6 aprile, ma ci sono ancora molte incognite. È atteso proprio in queste ore un confronto tra il governo e le regioni. Vediamo. La scuola si prepara a ripartire dopo Pasqua, per l'ennesima volta in epoca Covid. Le parole di nuovo nette di Mario Draghi sulla riapertura in primis dell'istruzione allo scadere del decreto legge il 6 aprile riattizzano il dibattito nel governo su quando e come riaprire, fino a che ordine è grado e se anche in zona rosso oppure no. Stiamo lavorando intensamente per far tornare tutti gli studenti nelle aule al più presto imprimendo una vigorosa accelerazione al piano vaccinale, dice il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Stiamo investendo risorse ed impegno per far rientrare tutti a partire dai più piccoli che frequentano la scuola dell'infanzia e la primaria, ma l'obiettivo è non fermarsi a loro. Oltre alla metà del personale scolastico è stato vaccinato, ha aggiunto parlando in Parlamento, riferendo di un incontro con il commissario all'emergenza Francesco Figliuolo e il coordinatore del comitato tecnico-scientifico Franco Locatelli. L'opzione più largamente condivisa nella maggioranza è che dal 7 aprile tornino in classe tutti i bambini fino alla prima media, anche nelle zone rosse. Ancora tutta da discutere, l'ipotesi di ripristinare almeno una percentuale di didattica in presenza per i ragazzi delle classi superiori. Una riunione della cabina di regia del Premier con i ministri sul Covid potrebbe tenersi a breve. E intanto questa mattina in 60 città di tutta Italia si stanno svolgendo delle mobilitazioni per lo sciopero nazionale della scuola con lo sciopero della didattica a distanza da parte di studenti e docenti per chiedere appunto la riapertura in presenza, in sicurezza e in continuità di tutti gli istituti scolastici dal nido all'università. La mobilitazione è stata indetta da priorità alla scuola in concomitanza con lo sciopero proclamato da IECOBAS a cui ha già dato la sua adesione il coordinamento nazionale precari scuola. Con la mobilitazione nazionale priorità alla scuola inoltre chiede anche che una parte consistente del recovery fund sia riservata proprio al rilancio della scuola pubblica con un incremento della spesa annua portandola almeno ai livelli della media europea pari al 5% del PIL. Il primo urgente provvedimento di riforma secondo i promotori della manifestazione di oggi riguarda l'immediata riduzione del numero di alunni per classe fissando un tetto massimo di 20 e abolendo ogni possibilità di accorpamento per le classi successive. Oggi è una giornata di sciopero anche per il trasporto pubblico locale dopo la fumata nera che c'è stata nell'incontro di ieri proprio in materia di contratto. La CGL dice che salari fermi da più di tre anni ha ignorato anche l'impegno dei lavoratori durante la pandemia quindi sciopero del trasporto pubblico locale oggi anche in Friuli Venezia Giulia con delle fasce orarie in cui i trasporti sono garantiti per quanto riguarda Udine oltre alla fascia che va dalle 6 alle 9 quella dalle 12 alle 15. E quella di oggi è una giornata di manifestazione e di protesta anche per tutte le attività che a diverso titolo ruotano attorno alle cerimonie dei matrimoni, al wedding come si dice a Udine è in corso una manifestazione proprio in Piazza Libertà dove si trova la nostra Monica Nardini che salutiamo e a cui cediamo subito la linea. Buongiorno Monica. Buongiorno, buongiorno. Mi trovate con un ospite che è Federico Beltrame, un referente del gruppo Insieme per il Wedding, gruppo che a livello nazionale ha organizzato anche per oggi una manifestazione per fare delle richieste ben precise al governo. Sono tornati a scendere in piazza a un mese esatto dalla precedente manifestazione perché continuate ovviamente a far presente le difficoltà che l'intero comparto sta vivendo a causa della pandemia e a fare delle richieste ben precise. Intanto buongiorno Dine GTV e grazie, grazie per l'ascolto. Già anche nella prima manifestazione eravate presenti. È passato un mese. Allora, nell'ambito dell'organizzazione di un matrimonio un mese potrebbe anche essere pochissimo ma in realtà per noi è stato un mese di consapevolezza di consapevolezza che non possiamo chiedere allo Stato più di quello che sta già cercando di fare a livello economico generando ristori o sostegno però possiamo e dobbiamo chiedere una cosa ben precisa. Aiutarci nel far capire che ci sarà una ripartenza perché una ripartenza deve essere possibile perché noi portiamo in dote quello che è stato l'esperienza dell'anno scorso dove luglio, agosto, settembre per tutta una serie di fattori, non ultimo il fatto che la pandemia ha avuto una battuta d'arresto, i matrimoni sono stati realizzati, sono stati realizzati in sicurezza perché grazie alla nostra professionalità, a quella dei proprietari delle location, a quelli di tutta la filiera, organizzare un matrimonio è possibile ed è quello che noi cerchiamo di dimostrare oggi in tutta Italia. È chiaro che il quadro epidemiologico attuale non consente di fare delle rapide previsioni. Noi non credo che possiamo dimenticare che non pretendiamo quando noi chiediamo data certa una forma di richiesta di solidarietà. Noi siamo consapevoli che probabilmente, insomma, fino a che l'estensione dei vaccini e in qualche modo il calo dei contagi non avrà una sua determinazione, non vogliamo essere noi i primi ad essere incoscienti. Noi regaliamo amore, noi facciamo degli eventi dove nella ripartenza saremo pronti. Però il problema è che se a queste coppie che oggi hanno investito tempo, sogni, non viene in qualche modo raccontato e palesato, che sarà possibile quando ci saranno determinati tipi di scenari, ripartire, ecco queste coppie, come tante hanno già fatto nel 2020, diranno no, nel 2021 mi sento di non sposarmi, andrò al 2022. Questo significherebbe un crollo ulteriore del comparto, che già nel 2020 ha perso l'80% del fatturato. Sono soprattutto piccole imprese che danno comunque un indotto importantissimo, perché in tutta la filiera tra l'indotto naturale e complessivo parliamo di 67 miliardi, di circa un milione di addetti, dislocati in tutta Italia, ma soprattutto dove il Made in Italy è un po' la filiera principale, perché parliamo di chi costruisce abiti, di chi dà da mangiare sfruttando i prodotti del territorio, di chi valorizza il territorio, proprio perché in qualche modo le location che ospitano gli eventi sono quasi sempre di more storiche, faticosamente mantenute in piedi anche grazie a queste forme di eventi. Ricordiamo quanti sono gli operatori anche del settore qua nel territorio regionale, all'incirca. Indirettamente potrei darti che specificatamente siamo più di un migliaio, soltanto occuparsi di questo, però in realtà è una filiera molto ampia, perché un fotografo non è soltanto un fotografo di prematrimoni, una parte di attività di catering non fa solo catering per i matrimoni, ma fa in generale per gli eventi e magari la ristorazione. È ovvio che l'indotto complessivo, insisto, dà lavoro a tantissime famiglie. Parliamo che tra assunzioni dirette e stagionali, complessivamente in Italia siamo attorno a 1.150.000 impiegati. Sono tantissime, perché sono persone che non è che hanno visto ridurre, ma hanno visto annientare nel 2020. Ora, nel 2021 è bello oggi, c'è il sole, siamo molto fortunati, perché anche nella manifestazione del 26 febbraio c'era questo entusiasmo, questa energia. L'obiettivo e la speranza è che il prima possibile il governo faccia capire a tutto il sistema nazionale che il matrimonio non è l'evento più pericoloso del mondo. Quello che noi ci chiediamo è perché in qualche modo viene impedita la generazione di un evento che in realtà è un evento facilmente controllabile, con persone invitate di cui c'è una tracciabilità, ma soprattutto in ambienti ampi e spaziosi sui quali, esattamente come nel caso dei ristoranti, la regolamentazione è semplice. Chiarissimo, chiarissimo Federico. Grazie. Allora voi, oltre che a manifestare oggi qua in Piazza Libertà, manifestate anche a Trieste come movimento e in altre piazze italiane. Sono 30 ed è questa una cosa bellissima, perché la filiera, ecco faccio un cappello che magari avremmo dovuto fare all'inizio, non siamo un'associazione, è un movimento. Il movimento significa che cerca di muovere le cose e manifesta perché in qualche modo raccontare, urlare, il nostro pensiero è importante. Manifestare significa che non andiamo assolutamente a sovrapporci alle associazioni di categoria che magari riescono ad avere modalità di penetrazione diverse, però loro hanno scelto di non manifestare. Noi in qualche modo, in maniera trasversale, in queste 30 piazze, cerchiamo di raccogliere un po' il grido di tutti, di qualsiasi associazione, di qualsiasi volume fatturato. Siamo dei professionisti, siamo in grado di ripartire. E volete ripartire. Ci riaggiorneremo allora su quelli saranno gli sviluppi. Grazie Federico Beltrame per essere stato qui con noi. Angela, a te la linea. Grazie Monica Nardini. Purtroppo non sono positivi i dati che ci arrivano dal mondo dell'occupazione. In Friuli Venezia Giulia nel 2020 c'è stato un crollo delle assunzioni del meno 30,7% e quanto emerge da un'indagine realizzata dal ricercatore dell'IRES del Friuli Venezia Giulia, Alessandro Russo, sulla base dei dati IMS. Allora andiamo a sentire proprio le parole di Russo che ci spiega un po' i contenuti di questa indagine. Russo, parliamo del crollo delle assunzioni nel 2020 oltre il 30%. La pandemia ha colpito pesantemente anche in Friuli Venezia Giulia. Sì certo, come era prevedibile purtroppo abbiamo avuto delle ripercussioni importanti della crisi sanitaria anche sull'economia e sul mercato del lavoro e quindi vediamo che nella nostra regione abbiamo quasi un terzo in meno di assunzioni nel 2020 rispetto al 2019. Chiaro che questa è una tendenza non solo regionale ma nazionale. Dall'altro lato però abbiamo visto che c'è stata una contrazione significativa anche delle interruzioni dei rapporti di lavoro, delle cessazioni soprattutto di quelle a tempo indeterminato perché è stato imposto da marzo dello scorso anno un blocco di licenziamenti e questo sicuramente ha contribuito a contenere gli effetti negativi sul mercato del lavoro della crisi sanitaria. Ci ricordiamo anche che nel 2020 sono stati messi in campo una serie di aiuti anche legati per esempio agli ammortizzatori sociali. La Cassa Integrazione nella nostra regione ha superato i 90 milioni di ore autorizzate per fare un esempio, contro i 5 milioni dell'anno precedente. Lei ha parlato del blocco dei licenziamenti. Nel momento in cui il decreto Cura Italia cesserà questa funzione, quali potrebbero essere le ripercussioni sul mondo del lavoro? E' chiaro che i veri dati appunto si li vedranno nel 2021 quando probabilmente dopo giugno cadrà il blocco dei licenziamenti e quindi purtroppo vedremo le conseguenze negative in tutta la loro dimensione e gravità. C'è una categoria invece che non pare avere crisi ed è quella delle babysitter. Con l'introduzione del bonus babysitting cosiddetto che poteva essere utilizzato di cui si poteva usufruire tramite il libretto famiglia che è lo strumento che sostanzialmente sostituisce i voucher che erano stati soppressi nel 2017 per quanto riguarda i privati, quindi le famiglie, abbiamo visto che c'è stato un boom sostanzialmente di ore di lavoro pagate tramite il libretto famiglia quindi legate sostanzialmente al fatto che sono aumentati i carichi familiari chiuse le scuole, qualcuno andrà a badare ai bambini e quindi pensiamo solo che nel 2019 avevamo circa 130 mila ore di regione retribuite con questo strumento, nel 2020 sono decuplicate quindi un milione e 300 mila. E passiamo alla cronaca adesso. Dietro una società di noleggio si nascondeva un'autoscuola a Scovarla a Trieste è stata la polizia stradale che ha elevato alla società una multa di 11 mila euro per servizio abusivo di autoscuola. Un mese di appostamenti, audizioni di testimoni e raccolta di documenti hanno permesso di accertare che la società non si limitava solamente a dare in locazione giornaliera i propri mezzi ai candidati per l'esame pratico di conseguimento delle patenti di categoria A, attività di per sé lecita, ma in realtà i contratti stipulati servivano a mascherare vere e proprie elezioni di motoconduzione dietro compenso. Durante tali elezioni, impartite da personale dell'impresa di noleggio, veniva simulato, mediante apposizione di coni e birilli all'interno di parcheggi aperti al pubblico, lo stesso circuito che i candidati avrebbero affrontato il giorno dell'esame. In questa forma, l'attività di istruzione, senza alcun titolo autorizzatorio, è risultata illecita in violazione delle norme del codice della strada. E a Treviso, la Guardia di Finanza ha denunciato un imprenditore tessile cinese per violazione ambientale e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Nei giorni scorsi, i finanzieri, assieme all'ispettorato del lavoro, sono intervenuti in un'azienda tessile di Castelfranco Veneto, gestita da un cittadino cinese, individuando tre dipendenti in nero, un connazionale del titolare e due ganesi, rilevando diverse violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio. Nel corso degli accertamenti, poi, le fiamme gialle hanno scoperto oltre sette tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi, per i quali il titolare della ditta non è stato in grado di esibire alcuna documentazione relativa alla conservazione e al corretto smaltimento. E a Udine i carabinieri di Tricesimo, nel corso del pomeriggio di ieri, hanno rintracciato in via Cividale cinque cittadini di nazionalità pakistana presenti in modo irregolare sul territorio italiano, senza documenti in buone condizioni di salute. I cinque sono stati portati all'ex Cavarzerani in attesa di essere sottoposti al triage sanitario. E adesso è il momento dello sport e allora andiamo subito alla Dacia Arena, dove vedo pronto Lorenzo Pausa per tutti gli aggiornamenti sull'Udinese. Lorenzo, buongiorno, a te la linea. Buongiorno a te Angela e un saluto anche ai nostri telespettatori. Ha ripreso da ieri a lavorare anche sul campo l'Udinese di Mister Gotti in questa settimana di sosta dal campionato per lasciare spazio agli impegni delle nazionali. Si è recuperato il fiato un poco in questi giorni e così è stato anche ieri per molti giocatori che hanno svolto dei lavori personalizzati per recuperare brillantezza. Tra questi anche Rodrigo De Polo che è in assoluto il giocatore più utilizzato fino a questo momento nella rosa e bianconera. Il giocatore anche che assieme a Roberto Pereira ha dato maggior spinta all'offensiva bianconera. Hanno continuato nel loro lavoro personalizzato anche i reduci dai rispettivi infortuni e parliamo, lo diciamo ormai da più giorni, di Samir, di Oweyan e di Deulofeu. Vedremo se ci sarà spazio per il rientro in gruppo, almeno per uno di questi tre, nella seduta di oggi che incomincerà alle 11 e mezza. Quindi si continuerà a lavorare all'aperto anche oggi, così come anche domani mattina con un gruppo che mantiene al proprio interno i giocatori argentini che non sono in questo giro impegnati con la loro nazionale. Nazionale che invece ha visto ieri impegnati Ilian Estorowski e Jens Struger-Larsen. Per il Macedone 54 minuti in campo da titolare nella partita persa per 3-2 in casa della Romania. Per Larsen invece solo alcuni spiccioli di partita nel finale in occasione del match vinto dalla sua nazionale per 2-0 sul campo di Israele. È stato invece un debutto fortunato per l'Italia di Mancini nelle qualificazioni ai mondiali con gli azzurri che contro l'Irlanda del Nord si sono imposti per 2-0 con la rete di Belotti in apertura di match e con il raddoppio firmato invece da Ciro Immobile. Noi ci rivediamo allora sul campo, sul campo delle Bruseschi nella prossima edizione del TG per mostrarvi in diretta alcune immagini dell'allenamento dei bianconeri e poi parleremo ancora di Udinese in maniera più approfondita nel corso di Pomeriggio Calcio. A te la linea. Grazie, ma Lorenzo Paus, allora ci rivediamo più tardi. Noi siamo in chiusura di questa prima edizione del nostro notiziario di oggi. Vi rivediamo insieme velocemente i principali appuntamenti della giornata su Udinese TV. Il TG ritorna alle 12 e poi ancora live alle 16, alle 19 e alle 22.30. Alle 15, come ha ricordato Lorenzo Pomeriggio Calcio, alle 17 speciale Calciomercato e alle 19.30 benvenuti al Bar Giggia. Alle 21 invece, come ogni venerdì in prima serata, Mondo Chef. Vi lascio alle previsioni del tempo. Ci rivediamo più tardi, alle 12. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Udinese TV. Bel tempo e stabilità nella giornata di venerdì sul friuli Venezia. Giuglia, il sole continuerà ad essere protagonista al tutto in un contesto climatico decisamente più umite nelle ore centrali del giorno. Ma andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà tra Pordenone e Udine. Tempo stabile, sole prevalente, nubi tuttavia in graduale aumento in serata specialmente sui settori montuosi per l'afflusso di aria un pochino più umida da ovest, ma non avremo conseguenze. Il tutto in un contesto climatico ancora freddino al mattino, temperature minime di poco superiori allo zero. Valori massimi invece in netto rialzo saranno prossimi ai 17-18 gradi. Più in dettaglio tra Trieste e Gorizia. Il tempo sarà stabile con cieli sereni su tutto il territorio. La ventilazione è debola, regime di brezza sul comparto costiero. Le temperature massime molto piacevoli, prossime ai 15-18 gradi. È tutto, ma per saperne di più scaricate la nostra app gratuita o consultate il sito trebimeteo.com. Grazie per la visione!